Anche per tasse e servizi esiste un sistema di misurazione del cosiddetto rapporto qualità-prezzo e l'Umbria in questa classifica di merito conquista, secondo lo studio Taxpayer Italia 2015, una onorevolissima quarta posizione. L'indagine elaborata dal Centro Studi Sintesi e dal Sole 24 Ore vede in prima posizione le Marche, regione con il miglior rapporto fra il livello delle imposte e la qualità degli indicatori, seguita da Friuli Venezia Giulia e Basilicata. L'indagine vede poi l'Umbria appena fuori dal podio ma ben posizionata e tiene conto di 25 indicatori articolati in 6 aree, infrastrutture, istruzione, sanità, sicurezza, ambiente, economia e rispetto alla regione ideale, quella con meno tasse e più servizi, l'Umbria con la sua quarta posizione scavalca le grandi regioni che con la zavorra dell'elevata pressione fiscale non riescono a risalire la china. Guardando ai primati per ogni macro area, le migliori infrastrutture sarebbero in Liguria, le peggiori in Basilicata, al top dell'istruzione la Toscana, peggiore fra le 21 regioni la Sicilia. Per la salute al top l'Emilia-Romagna, peggiore la Campania, regione più sicura la Valle d'Aosta, in coda invece l'Emilia-Romagna, anche in tema ambiente dove invece eccelle il Molise. Per l'economia domina la Valle d'Aosta e la Calabria è in ultima posizione. L'Umbria è esente da picchi di eccellenza o di demerito e nella graduatoria dedicata solamente alla qualità dei servizi, dominata da Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige, la nostra regione è decima. Undicesima in quella che misura il livello di tassazione, prima fra le regioni tartassate, è la Valle d'Aosta, qui seguono Lombardia ed Emilia-Romagna. A commentare i dati Taxpayer Italia 2015, oggi il consigliere PD Andrea Smacchi, che parla di un'Umbria efficiente e ben amministrata, un risultato dice che ci onora, ma che comunque ci sprona anche a fare sempre meglio per quanto riguarda le infrastrutture, che comprendono la dotazione ma anche il trasporto pubblico, continua Smacchi, l'Umbria è quindicesima. Sull'istruzione va meglio e ci classifichiamo ottavi, ottimi risultati per la salute, l'Umbria si piazza in terza posizione, sedicesimi sulla sicurezza e nell'ambiente, siamo dodicesimi per l'economia, dove si tengono in considerazione la disoccupazione, il peeling in relazione al potere d'acquisto e la povertà. Numeri, conclude il consigliere regionale Umbro, che saranno la nostra guida nei prossimi anni, lavoreremo per potenziare i nostri punti di forza e invertire la rotta sulle debolezze.